Grazie, grazie a tutti e grazie per il tempo che vorrete dedicarmi. Io avevo una sorta di pseudo intervento più o meno preparato e direi che cambiamo tutto, insomma perché così almeno si è bloccato, ottimo, ottimo, si è bloccato, una cosa fantastica. Allora qualcuno lo sbloccherà perché io volevo andare a far vedere i numeri proprio, dammi una mano, visto che è la sua tecnologia, insomma andiamo a vedere questi numeri che tutti dicono hanno spento, si è bloccato. Va bene, cominciamo così, proviamo a fare un po' di presentazione, proviamo a fare un po' di presentazione quando circa 11 anni fa, perché questi sono i termini, perfetto, abbiamo incominciato quella che è la nostra storia in provincia d'Imperia con un prodotto che si chiamava, si chiama Sanremo News ed è il quotidiano online della provincia d'Imperia, da allora sono nati altri prodotti, sono quelli nel provincia di Savona, nel Levante, nel Cuneese, insomma, e poi anche su Monte Carlo e altre zone. Quello che volevo fare, perché ho cambiato un po' l'intervento, perché oggi ho sentito delle cose molto interessanti, simpatiche, allora posso aprire lo scrigno, la cassaforte, tanto voglio dire, andiamo a guardare in casa degli altri, che è sempre bello, e così non abbiamo possibilità di troppi errori. Andiamo proprio a vedere i numeri, qui si è parlato di numeri e quindi andiamo a vedere i numeri. Per non parlare dei numeri piemontesi andiamo sui numeri di Sanremo, o meglio della provincia d'Imperia, questi sono i numeri, qualcuno può dire che si può taroccare anche Google, va bene, tarocchiamo anche Google, facciamo quello che vogliamo, provate a fidarvi, proviamo a mettere un po' di effetto fiducia, questo è Sanremo News ieri, così li vedete i numeri, Sanremo News quando va male, così li vedete i numeri, questi sono Sanremo News nell'ultimo mese, 224.000 abitanti, 304.000, 840 persone hanno visitato questo mese nell'ultimo mese, 1.150.000 visite, questi sono i numeri, questi sono i numeri, perché quando il giornale entra nella gente funzionano queste cose, queste sono le persone collegate ad esso, sono certe, non è un tarocco, sono lì, poi per carità, nella vita, tutti hanno taroccato quello che vogliono e qui andiamo a vedere anche quello che stanno leggendo, cosa stanno facendo, come si stanno muovendo, perché quando parliamo di un modello di business su internet, perché di business si tratta, beneficenza non credo che ne faccia proprio più nessuno, noi andiamo a vedere che cosa fanno e qual è il gradimento, se conosco il gradimento posso mettere la pubblicità di fianco al gradimento, se scopro che cani e gatti vanno alla grandissima, io vado a mettere la pubblicità di fianco a cani e gatti e magari scopriamo le categorie del chi se ne frega, che di solito è quella della politica, dove quelle notizie non fanno mai notizia, e la categoria del chi se ne frega nella mia struttura è un grande classico, perché poi certe persone la usano, la rendono un acronimo, noi facciamo un quotidiano online della provincia di Imperia e poi di altre zone, come vi ho detto, quotidiano, tutti i giorni, dalla mattina alle 6 e mezza, primo giro cronaca con i pompieri, alla sera alle 11.40 più o meno perché Imperia chiude l'ultimo giro cronaca con le croci a quell'orario lì, e poi ci sono le altre province, va bene, e allora abbiamo un pochettino cambiato, e questi driver, questo che Google Analytics è gratis, sono come i tanti prodotti gratis che la rete offre, cambia un po' il modo di fare il direttore, perché il direttore di solito di un giornale è colui che prende una notizia e crede che sia la migliore del mondo perché l'ha pensato d'abitudine più o meno lui o qualcuno dei suoi, e questo accade un po' da sempre, e allora va bene partire così, ma magari poi durante il giorno ti accorgi quello che sta succedendo qua, che la notizia che tu avevi pensato di essere la migliore non lo è, e che magari questa Corso Garibaldi o Capaci che fa chiarezza e quant'altro è la notizia migliore, allora gli corri dietro, la rincorri, prendi lo strascico, la porti fuori, la ributti, la ritratti, la rilavori e al fine della giornata i numeri cominciano a farsi importanti, allora ti accorgi che la sindrome del chi se ne frega ti prende, che i locali del fritto misto in provincia di Cuneo fanno dei grandissimi numeri, e non ti vergogni quando i grandi direttori dei grandi quotidiani locali vengono a dirti, ma beh mettete il fritto misto, sì perché tu nella locandina gialla davanti alle dicole non metti qualcos'altro, il mio business qual è? È fare dei numeri, o meglio tradurre quei numeri in economia, e allora io traduco quei numeri in economia, e se il fritto misto funziona io ci metto il fritto misto, perché poi dopo accadono le cose miracolose che internet può fare, che la rete insomma ci può offrire, e il punto numero due che mi sono detto è qual è il coinvolgimento dell'utente, il coinvolgimento dell'utente oggi è strabiliante, ma è molto da moderare, il coinvolgimento dell'utente è quello che ti manda la foto dell'incidente, la mentre accade, tu la devi ricevere, devi avere qualcuno in redazione che te la mette su e te la butta sul giornale, e poi però devi stare molto attento a quello che è il canale diretto con il giornale, perché rischi di non rispettare più le fonti, bla bla, ne hanno parlato, le vediamo, Facebook non è una fonte, ma Facebook, cioè i social, è una roba da persone scatenate, e va gestita come Facebook, e Twitter va gestito come Twitter, e non può essere così gestito che mettiamo un po' insieme, perché lì ci sono delle esperienze, delle professionalità, delle cose che si sviluppano in quei mondi, e in quei mondi si muovono, e chi pensa di fare il tuttologo anche in questi mondi, forse ha ancora da maturare un po' di cosine, perché siamo tutti quanti molto eleganti, e allora poi accadono queste cose strane, per cui un giornale online decide che c'è qualcosa di interessante, allora andiamo un po' a vedere questa roba qui, che verrà consegnata lunedì alle autorità politiche, che erano prima qua sedute, nessuno tocchi la Cuneo Ventimiglia, questo trenino che se ne va su e giù nella Valle Roia, e si fa una petizione, è incredibile, come ci siano i nomi e i cognomi di quelli che firmano una petizione su internet, una petizione si è sostenuta da due giornali, che sono quelli online, e quante firme avranno, ma chi lo sa, magari poche, magari tante, ma cosa importa, non riuscirai mai a farne tante, allora andiamo un po' a vedere qua dove ci mette più o meno il numero delle firme, che erano fino a ieri 5.480, qui c'è un plugin da attivare, proviamo ad attivare questa roba, qui ci sono tutti quelli che hanno firmato, sono 5.482, con nomi e cognomi, verranno consegnate lunedì in provincia di Cuneo, e gli altri ne consegnano 3.000 di firme stampate su carta o in altri modi, e noi ne consegniamo 5.482, ma non siamo magici, non siamo magici, stiamo lavorando, stiamo facendo quello che è un percorso, un percorso che internet ti fa fare anche così, ecco quindi le altre attività, quella roba che metti dentro, quella roba che ti va a fare l'innovazione sul territorio, perché queste notizie, tutti hanno detto molto bene, devono essere fruibili su tutti quanti i device, a me piace quando un po' di anni fa le abbiamo messe dentro i totem, per gli anziani che se le potessero leggere davanti al comune, mi piace ricordare quando l'abbiamo messa nel banco, Matt, di 3, 4, 5 istituti bancari, per cui sei davanti a fare la fila alla cassa e vedi le notizie del tuo territorio, in questo momento li stiamo mettendo nelle casette dell'acqua, perché ci piacciono tantissimo le notizie nelle casette dell'acqua, quando vai a prendere con 5 centesimi l'acqua frizzante, ma anche nelle macchinette nel caffè in provincia di Savona, ci sono queste bellissime macchinette del caffè davanti all'ospedale, per cui quando sei lì tu ti puoi leggere due notizie, fate un caffè ed eventualmente se vuoi una sigaretta elettronica, perché quella normale la vai a fumare fuori, una delle poche cose che noi italiani in maniera educata abbiamo imparato dall'Europa. Ma allora poi devi innovare, devi fare qualcosa di diverso, perché ci sono i modelli di business, voi credo che pensiate del modello di business, allora vai a innovare, ma forse la mentalità di internet, vabbè stavolta vado su qualcosa di mio, ci devo andare un pochettino, perché altrimenti c'è qualcosa che non quadra. Cosa serve se tu prendi un giornale online della provincia di Cuneo e ti decidi che vai a fare ogni giorno una notizia in inglese. Perché se parliamo di turismo e poi il turista trova soltanto sempre solite cose, non è turismo. E allora vai a investire su un prodotto del genere che fa business e che riesce a portare a casa qualcosetta. E poi ti scopri che ci sono delle rotte che vanno in giro per il mondo e allora tu decidi che magari potrebbe avere un senso fare un Cuneo Marrakech.it, che poi è Marrakesh e poi c'è anche tutto il Marocco, perché c'è un aereo che ti porta fin là e vai a mettere dentro queste cose qui e quindi apri il mercato, apri le idee, apri le forme e non stai ancorato. Noi viviamo perché siamo nati così, voi avete un modello di business che vuole la vendita della copia del giornale, noi siamo nati nel free, per noi la notizia è una cosa normale, una volta che fuori la notizia è bruciata, se la copiano tutti, non posso dire, qualche volta qualcuno ci copia anche un po' le nostre, noi copiamo anche un po' le loro, voglio dire, è così, un dare, avere, è un qualcosa che si mescola. La prima genitura, qui c'è sempre la famosa prima genitura, il priapismo di quello che ha scritto la notizia, gli orari, si mettono gli orari avanti e indietro, perché vogliono taroccare, è finita quell'epoca lì, tutta roba è finita, quell'epoca lì. La notizia può essere unica nel momento in cui una notizia è l'indagine, che non puoi copiarti, che non puoi andare a dire, ah ma che risposta Policante mi ha detto una cosa, adesso l'ha detto anche a me, no Policante ha detto solo lui, è solo lui che ce l'ha, quella è una notizia unica, quella è l'indagine, tutto il resto di tutti noi. Stanno da casa, perché la nonna ti diceva che se dovevi essere profeta, ma in patria sempre fuori, se funziona fuori, poi in patria prima o poi ti sparano, e forse se non riescono a spararti troppo, e sei un buon cinghiale, che ami anche i crisantemi, allora forse resisti e vai avanti. E poi mi sono segnato ancora due o tre cose, qual è il modello di business? Pubblicità? Sì pubblicità, banner, sì sì banner, a volte mi dicono banner news, va bene, banner news non è un problema, ci sono più banner che notizie, va bene, dobbiamo mangiare, non ce ne vergogniamo. PR? Comunicazione? Comunicazione come? E vabbè ci sono i canali nazionali, ci sono i canali di advertising di Google, ci sono i Zanox, gli Zuppa che fanno altre cose, sono dei nomoni. In America fanno charity, fanno fundraising, fundraising a provvigione, fundraising a provvigione sulle cose, si può fare anche in Italia, forse a Cunio ci proviamo, mia Cunio provare a fare un fundraising online mi sembra già una favola, è bellissima. E poi abbiamo tutta quell'attività di lobby, che è molto più forte di quello che sembra, perché uno può anche inventarsi che a un certo punto nella vita gli viene voglia, così di avere un qualcosa che non esiste e quindi magari poi su certi prodotti riesce a farla un'attività di lobby un pochettino diversa e un pochettino strutturata. Però c'è la forza degli archivi, qualcuno qua ci parlerà dei grandi archivi che ci sono, gli archivi possono essere fatti pagare, allora sì che mi piacerebbe trovare un euro per una cosa vecchia, 11 anni di cronaca dalla provincia d'Imperia, magari quegli 11 anni valgono qualcosa, non lo so, spererei, quantomeno lo sperano i miei bambini. E questa cosa aumenta proporzionalmente e crea un algoritmo che ho creato interno per definire il valore del giornale. Perché io credo che sia importante per tutti voi sapere quanto vale un giornale online. Se voglio andare a comprare un giornale online, poi vi dico perché andare a comprare un giornale online. Allora abbiamo i lettori unici al giorno, sono quelli di Google, sono questi qua, questa gente qui, questi qui hanno un valore, hanno un valore, perché poi li metti tutti quanti insieme e sono 48.000 qualcosa, ieri su Sanremo News, 230.000 abitanti, 48.000 utenti, beh, mica male, non ne buttiamo via quei numeri lì. Quindi i numeri ci sono, ci possono essere su un territorio. Gli iscritti su Facebook, nome, cognome, profilatura, puoi fare delle lavorazioni, non soltanto con le fanpage, puoi entrare dentro quei negozi di Facebook, nuova frontiera che uscirà, puoi entrare e uscire delle altre cose, puoi andare a lavorare sulle prenotazioni ai ristoranti, puoi fare il mercatino dello shop, messo del prodotto tipico, ma c'è tantissimo da fare, sono suggestioni, ci piace dare suggestioni, forse ci accomunano un po' quelle suggestioni perché le viviamo tutti i giorni nella nostra vita, è dentro questa cosa. La geografia d'azione, non sempre la geografia provinciale è quella che funziona, a volte ci sono dei termini, bellissimo il concetto Monferrato, è molto più grande di una provincia, Monferrato è qualcosa in più, come anche qualcosa in più sono le Alpi del mare, è qualcosa in più, c'è un'idea, una comunione, c'è chi va al mare, c'è chi va alla montagna, c'è chi vuole all'albergo in montagna, c'è chi vuole all'albergo in mare. E poi quello che è il ruolo apolitico del mezzo, so che non dovrei dirlo perché molto spesso è un po' una bestemmia, però su un online non hai problemi di spazio, se esiste ancora una destra e una sinistra c'è spazio per tutti, anche gli estremi, buttiamo dentro, tanto un articolo non si nega mai a nessuno, ma sia un comunicato stampa, alle nove e mezza di sera si mette anche dell'ultimo che è arrivato. E allora fai i numeri, fai muovere questa cosa, fruibilità della notizia, sito mobile e altro. E altro sì, perché la carta sarà un grande ritorno da internet. Una carta diversa, una carta 3D, quella carta che passi a stampa, poi dopo ripassi una stampante, un'altra cosa stampata, poi ne ripassi un'altra, è sempre il stesso foglio. Ma non è fantasia, facciamo un giro a Trieste e la vediamo funzionare. Quindi non è che dobbiamo sconvolgersi di questa carta in modello 3D che la ristampo sette volte ed è la mia carta personalizzata. C'è un ritorno alla carta, ci sarà un ritorno alla carta. La carta è fantastica, la carta è magica, chi ti toglie il piacere di fumarti una sigaretta e berarti un caffè davanti a un pezzo di carta? Ma non esiste, il piacere è unico. Anche i tablet però ce li rubano nei bar dove li abbiamo messi, quindi abbiamo smesso un po' di metterle. E una carta nuova e poi c'è la radio perché la radio sarà un altro fenomeno che incrocerà tantissimo con i nuovi media, per arrivare a una televisione nel 2016 sono programmate i televisori a 299 euro con internet integrato. E quello è un momento di snodo. Sulla vostra poltrona a casa di tutti clac clac, Rai 1, internet, il vostro giornale o la vostra tv o la vostra web tv o quello che voi riterrete nel 2016 già comprato il terzo produttore italiano di televisioni ha pronto sul mercato 299 euro. Quindi è là, in Natale 2016 la deadline. Quella è la deadline. Cambierà di nuovo un mondo digitale, non digitale, quello che volete, come vi piacerà, come riuscirete, come potrete. E quindi quanto vale un giornale online? Beh, noi siamo in Italia, noi siamo il posto dove quando dobbiamo aprire una gelateria, anche se c'è la gelateria migliore del posto, noi la apriamo davanti perché non andiamo a trattare l'acquisto di una gelateria. No, no, noi la apriamo davanti così facciamo tutti un sacco di casino, e in un sacco di roba spendiamo un sacco di soldi e poi su 20 gelaterie qualcuna ce la fa e qualcuno non ce la fa perché se noi fossimo in America, in America c'è Coca-Cola e Pepsi-Cola. Allora, Coca-Cola, brand number one, Pepsi-Cola, seconda linea, stop, finita. Allora, se oggi voi sul vostro territorio volete comprare un Coca-Cola, andate a comprare un Coca-Cola e sicuramente se c'è anche un Pepsi-Cola il mercato là potrebbe forse magari già essere un po' saturo. Decidete se volete Coca-Cola o Pepsi-Cola. Quanto vale un giornale online? Così parliamo di economia. Almeno se è la prima linea il valore del fatturato commerciale delle pubblicità. Non c'è ISLM, economia 1.0, il primo esame che qualcuno ha dato. È il profitto, il reddito, l'utile, ma parliamo dei bilanci italiani, i bilanci del grande tarocco. Oppure dobbiamo raccontarci ancora le grandi favole visto che abbiamo il grande tarocco dallo Stato in giù e noi siamo tutti borderline. Quindi parliamo di quanto vale. Quanto vale almeno il fatturato della pubblicità commerciale. per cui se è vera e non è un tarocco la fattura, quel giornale vale quello. Va in parte di lì. E quella è l'economia. Domani mattina andate a trovare un signore che ha un giornale online in qualunque provincia che volete e gli dite fatemi vedere le fatture. Se le fatture, come si presume, sono fatture buone, quel giornale vale almeno quello. Poi volete dargli di più perché è una prima linea, perché fa convocare le conferenze dal sindaco nel momento in cui mette fuori una notizia il sindaco dopo con la conferenza, perché succedono le cose magiche, perché è questo il mercato sempre che lui abbia voglia di venderlo. Ma penso che in questo momento tutti venderebbero tutto. Quindi vale almeno quello. Salutiamo come siamo abituati e cioè arrivando dalle montagne con un grazie e un arveire. Grazie.